Molto bene ragazzi, assembla un team, andiamo! Finirò questo velocemente, lo spero anch'io Imo Forza, andiamo Ah ragazzi, il mio amico Ace Style, sono felice perché il mio amico Ace si sta recuperando Serran Kagura Burst 2 La mia prima guida di un Serran Kagura in assoluto, per cui lo saluto Non c'è niente da fare, Miyabi Tutte le reclute dell'Aibigio sono troppo... sono troppo... Raw, sì, non mi viene adesso come tradurlo Sono troppo, ecco, in erba o non disponibili Beh, non mi aspettavo nessun altro al mio stesso livello Ma deve esserci qualcuno che possiamo allenare Forse non dovremmo sbattere tanto la testa su questo E se le reclute si stanno solo trattenendo Io posso semplicemente coprirti con me stessa e basta Non è accettabile, i nostri ordini sono di prendere un team di 5 persone Dobbiamo trovarne ancora 3 da qualche parte Io... io non sono accettabile Voglio dire, io penso che potremmo essere soltanto noi due Quanto duramente hai cercato per nuove persone? Cosa? Le hai testate in modo corretto oppure hai trovato una scusa? No! Ti sei fatta l'idea sbagliata? Non mentirmi Io non voglio che nessuno si metta in mezzo fra noi due E se ti tradiscono? Eh, il tradimento è una cosa che ho testato pochi mesi fa, cara Imo E che cosa? Che cosa? Che cosa? E se qualcuno si innamora di te o qualcosa Io... io... Smettila di blaterare Sputalrospo Mi dispiace Ehm... vabbè, sì Dobbiamo cercare con qualcun altro Ricordo la vecchia regola Se vuoi qualcosa prendilo con la forza Adesso provamelo Imo Giusto? Allora vengo Andiamo Bisogna far capire a Imo che serve per forza un team di 5 persone Allora, per chi se lo stesse chiedendo, sì È ufficialmente confermato Imo è innamorata di Miyabi Si scopre nella Shinobi Girl Cert sua Lo dice chiaramente Una parte dentro di me l'ha sempre voluto Che io e Miyabi fossimo più che amiche Dunque, andiamo, dai Se l'unica... Ehm... allora L'unica... Le uniche cotte... Si lo so, allora ci sono tante ship Yuri in Serankagora Però... Le uniche cotte ufficiali sono Allora... Ehm... Iagyu per Ibarri E... Imo per Miyabi Solo queste 4 sono le uniche Cotte ufficiali Poi... Alcune ship messe a cavolo come Katsuragi e Ikaruga Oppure Asuka e Omura Sono solo frutto del fandom Assolutamente inesistenti Allora, andiamo Andiamo... No, dico sempre troppo spesso andiamo Allora ragazzi, ecco Vi dico una cosa importante Dopo questa guida Non ci sarà la guida di Crash Nitro Fueled Mi dispiace Mi dispiace viverlo Ma niente guida di Crash Nitro Fueled Come mai? Sembrerà che io stia trovando solo la scusa Per non fare quello che vogliate voi Ma mi dispiace ragazzi Perché... Ehm... Concluso il Gran Premio di Spiro Io nonostante fossi nella 5% Non ho ottenuto il kart dei campioni Perché? Problema del cazzo Che la Binox ha combinato Non l'ha vinto nessuno Neanche me Nonostante fossi nel 5% Io veramente sono stra-incazzato per questa cosa Ho sputato sangue e anima Mi sono fatto un mazzo così Ho raggiunto l'obiettivo E nessun risultato? Scusate, cosa? No davvero Io ce l'ho troppo con Nitro Fueled adesso In questo periodo Mi dispiace ma Una guida su questo gioco È assolutamente fuori questione Sono troppo veramente Incavolato E avvelito per questa cosa Io guardate Mi lamenterò sempre Ma seriamente Devo essere sempre il coglione A cui nulla è concesso? Cioè mi impegno E nulla mi deve essere concesso? Per un problema Che questi stronzi della Binox hanno combinato? No veramente Ma io non devo mai avere nessun risultato? Che palle Mi impegno a nessun risultato Eh ma Ma seriamente Qui ora basta eh Io infatti Mi sto prendendo una lunga pausa Dal Nitro Fueled Non ne voglio proprio neanche Sentir parlare Mi dispiace ragazzi Ma mi troverò un altro gioco da fare Finito qui E in attesa che io poi mi rigiochi la L'arco narrativo Della Della Omura Screams of Squad Perché Così proprio Non ci siamo eh Io sapete Sono uno che Non chiude mai un occhio Su ste cose E questa volta Non fa eccezione Mi dispiace ma La vittoria è saltata Della carta dei campioni Sebbene io mi sia impegnato Abbia raggiunto i risultati Ce l'ho fatta Ma la Binox deve scatenare il problema Io questo Neanche questo Posso passarci sopra Mi dispiace ma Una pausa da questo schifo È più che necessario Da questo schifo Intendevo il problema È perché il gioco in sé È un capolavoro ma No mi dispiace davvero ragazzi Niente Nitro Fueled Davvero Per un po' niente Nitro Fueled Sono troppo Troppo Incavolato Dai adesso concentriamoci Su questa guida Che è quello che voglio fare veramente Sì ragazzi mi dispiace Ma io preferisco fare Questo che i giochi di Crash O quelli straconosciuti da tutti Vai Vittoria Tutto quello che faccio È per Miyabi Non so A vedere Imu Negli altri archi narrativi È irritante Però a vedere Che fa tutto per Miyabi Per Dal suo punto di vista Vederlo nei suoi panni È È una cosa così dolciotta Allora Andiamo Io ho vinto Impressionante Imu Aspetta Mi hai lasciato vincere Mi hai lasciata vincere Devo essermi trattenuta un pochino Ma perché Ok Va bene Mi abbi Mi dispiace Io ero egoista C'è una persona C'è una persona Allora che 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 rispetta i nostri ideali Che stiamo cercando È una studentessa Qualcuna che conosco Sì e no Tu non conosci la sua vera identità Vera identità? Chi è? Capirai quando la incontrerai Lei ha qualche problema È la mia sorellina Murasaki Possiamo vedere il dialogo D'apertura Della parte successiva Io dico di sì Ok Anche Imu Ha fatto qualche livelluzzo Dai Livello 5 Perfetto Vai Si va alla grande Ah ma inizia sempre bene E poi Che ci saranno gli scleri Allora Abbiamo qui Bene Vai Ora che non c'è più la Darko narrativo Della I guess E non mi confondo più Quei file di salvataggio Sì perché il file di salvataggio Ha la faccia Dell'ultima ragazza Con cui stavate giocando Sì ve ne sareste Di sicuro accorti Oh Comincia subito La prossima missione Ed eccoci qua Murasaki Eh? Bebetan Dove sei Bebetan Oh Oh no Il mio Bebetan Se n'è andato Il tuo orsetto di pezza È proprio qui Sorella Murasaki È stato un bel pomore Da un bel po' di tempo Murasaki Sì Sei qui per vedermi? Sì È giusto Non sai quanto mi felice mi faccia Ma Perché? Abbiamo bisogno di tornare alla bigio adesso C'è una missione che richiede il tuo potere speciale Il mio potere? Sì Lo sai La tua Root of Calamity Ti fa venire in mente niente? No Io non lo voglio Non voglio farti male Sorella Murasaki Che cosa sta Implima Che cosa vuoi implicare? Che io perderò contro di te ancora? No Io volevo dire Mi sono allenata un sacco Fin da quel Da quel momento Quindi smettila Smettila di star qui Tappata E porta il tuo culo fuori da qui Ma Murasaki adesso ci racconta di sé Lei ha un potere che si chiama Root of Calamity Suo padre ha costretto ad allenarsi un sacco di tempo Per tanto tempo E la faceva combattere anche contro Imu Facendola sconfiggere ogni volta Insomma il padre faceva combattere due sorelle Così come combattimenti clandestini dei Galli In Messico mi pare Allora Murasaki terrorizzata da questo potere Suo E dal far male ogni volta alla sorella Fino a farla svenire e sanguinare Si chiude dentro la sua stanza E diventa una Ikikomori Ecco questa infatti che vedete è la sua stanza E Niente Adesso però Murasaki deve fare i conti col suo potere E deve inoltre tutto imparare a controllarlo E fare i conti con Imu Imu è stragelosa Del fatto che Murasaki ha bella Rutt of Calamity Mentre lei no Guarda Ma stai almeno ascoltando? Beh io Tu cosa? Beh come posso dirlo? Beh tu sei la mia sorellona E se mi vuoi davvero? E se Puoi perdonarmi? Guarda è veramente semplice Dammi soltanto una risposta Sì o no? Eh? Se non riesci a rispondere neanche a una domanda semplice Allora stai qui E a marcire per quel che me ne importa Io mi prenderò Bebetan Cosa? No No per favore Ridammelo Se lo rivuoi così tanto Allora vieni qua e Riprenditelo No 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 Ridammelo Rutt of Calamity sta arrivando Ridammelo Bene ragazzi Così inizia la missione con Murasaki Allora Il rapporto tra queste due sorelle È molto complicato Infatti Murasaki È chiusa lì perché ha paura Chiusa nella sua stanza perché ha paura del suo potere Ha paura di far di nuovo male a Imu Tutte le volte in cui suo padre la faceva combattere appunto contro sua sorella Per farle scatenare il suo potere E infatti Imu allo stesso tempo è genosissima di Murasaki È invidiosa di Murasaki Allora vabbè Andiamo Aspetta Fermiamoci qua Fermiamoci qua Per questo episodio ragazzi è tutto Noi ci rivediamo alla prossima